Tutti loro che sono venuti qui questa sera vogliono qui pubblicamente rendere noto un comunicato a una rapida soluzione del problema della pace al primo incontro san salvador apre in gennaio a san salvador e a messico che saluto che saluto cordialmente lo che stiamo iniziando il prossimo 22 di febrero ma si viene reiniciando è il processo formale della negociazione che abbia quedato in sospetto questi cinque encuentri che abbiamo fatto a capo hanno tenuto come obiettivo basicamente tomar contacto entre lo che potrebbe essere lo che ora è il nuovo equipo del nuovo governo e la comandazione del URNG il obiettivo primordial come dice il comunicato è basicamente il poter conoscere, prendere confianza e a travesse di questo favorecer il clima della negociazione non stiamo sostituendo nulla simplemente è stato come dice il comunicato una una serie di encuentri orientati a creare un migliore clima a favorecer la messa della negociazione e non sostituirla perché io credo che oggi rappresenti un giorno di speranza il alto al fuoco requiere di una negociazione molto complessa non si tratta semplicemente di callare i fissili sino si tratta di una serie di medidas di carattere politico e di carattere militar che garantiscono il alto al fuoco però non solo il alto al fuoco sino che anche garantiscono la autorità dei combattenti tanto da un lato come da l'altro e questa è una operazione che corrisponde verificare a Nazioni Unite vogliono qui pubblicamente grazie